Roma, città orgogliosamente antifascista, vuole anche oggi qui ricordare. Ricordare un'azione, direi un esercizio necessario, è un elemento che dà forza all'identità nazionale, al comune sentire. È un valore altissimo. Non è e non può essere una vuota espressione. La memoria va resa tangibile, trasmessa con il suo carico di emozioni alle nuove generazioni. A loro, ai giovani, consegniamo questo messaggio, un messaggio civile di pace, di uguaglianza, di libertà e di unità, perché conoscendo, osservando, toccando con mano, possano fare tesoro del patrimonio di diritti che oggi tutti noi possediamo e talvolta diamo forse un po' troppo per scontato. Grazie al sacrificio di molti. Grazie a tutti.